Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e come ogni domenica bentornati sul canale con le news della settimana. Questa è stata una settimana davvero incredibile, non ci sono state grandi cose da parte di Hot Toys, soltanto un annuncio e una release. Però ragazzi, due pezzi veramente giganteschi. Li andremo a vedere fra poco, ma prima, prima di cominciare, volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti e anche i veterani del canale, quindi i vecchi iscritti che sono qui dall'inizio. Grazie a tutti voi ragazzi, grazie all'affetto, grazie al sostegno che date al canale, perché negli ultimi giorni ha superato i 500 iscritti. È successo tutto nell'acqua di pochissimo, anzi dovremmo essere all'incirca, intorno ai 520 e qualcosa, quindi grazie davvero a tutti ragazzi. E per festeggiare questo primo grande traguardo, domani 17 giugno, domani sera alle ore 21 e 30 circa, poi ovviamente farò uscire la premiere in cui vi darò tutte le informazioni, ci sarà una live dedicata al festeggiamento di 500 iscritti. Ovviamente ospite d'onore il Colosso dei Nerd, che riporterò in live, e so che la cosa vi fa piacere, e proprio insieme a lui andremo a fare una sorta di gioco, di contest, che vi avevo già annunciato in qualche video, in qualche live precedenti, in cui andrò ad acquistare un pezzo, probabilmente uno Toys delle SH Figures, poi decideremo in live, e a decidere che cosa acquisterò sarete proprio voi, tra ciò che ovviamente è disponibile sul Colosso dei Nerd. Quindi ragazzi non mancate, siate tanti, perché potrebbe essere una vera figata questa cosa qui. Grazie ancora a tutti, e adesso andiamo con la prima release da parte di Hot Toys. Sto parlando di Anakin Skywalker, tratta da Episodio 2, ovviamente Star Wars, ed è questo pezzo eccezionale. Lo aspettavo mai da tanto, annunciato all'incirca un anno fa, forse qualcosina in più, e sembra essere davvero incredibile ragazzi. Ed Sculpt, fenomenale, è identico praticamente a Christensen, davvero bellissimo. Qui vediamo l'accoppiata con Padme, uscita ormai qualche mese fa. Il nuovo Box, che abbiamo visto con Mace Windu e con Padme stessa, molto bello, molto vintage, in onore dei 20 anni di Episodio 2, L'attacco dei Cloni. La basetta, la classica basetta rettangolare di Star Wars, nulla di particolare, e qualche accessorio, come ad esempio la mano robotica, dopo che ovviamente il Conte Duku aveva tagliato la mano destra ad Anakin. Davvero bellissimo questo pezzo ragazzi, è uno dei miei must have, che sto aspettando davvero da tanto. Dovrò aspettare ancora qualche altra settimana, mi auguro, prima di averlo in Italia, però davvero un pezzo da non lasciarsi sfuggire per tutti gli amanti di Star Wars. Andiamo a vedere un attimo due cosine, giusto per ripassare insomma che cosa ci si aspetta da questo Anakin, ora che è stato rilasciato. Ha un body di 31 cm di altezza circa, con 30 punti di articolazione. Un solo head sculpt, con capelli scolpiti ovviamente, che sembrano essere scolpiti egregiamente, guardate anche una sorta di treccina da Padawan. Ovviamente bulbi oculari che possono essere mossi separatamente, questa è una delle innovazioni da parte di Hot Toys, e diverse paia di mani, qui specifica che sono un paio di pugni, un paio di mani rilassate e un paio per andare a tenere le spade laser, che saranno ben due, come vedete anche dalle foto, una blu e una verde. Spade laser che saranno alimentate tramite USB-C, quindi questa è un'altra innovazione tecnologica che ormai è stata introdotta da un pochino di tempo da Hot Toys, ma che io purtroppo ancora non ho avuto l'occasione di provare. Spero di provarle presto con un Darth Vader tratto da Obi-Wan Kenobi, che ancora purtroppo deve arrivarmi ragazzi. Poi abbiamo appunto anche il braccio destro che è intercambiabile, e la basetta con un piccolissimo diorama. Quindi ragazzi, questo è tutto, prezzo era di 273 euro circa, prezzo colosso 300 euro circa. Quindi ragazzi, fatemi sapere se voi avete preordinato questo Anakin, se magari avendolo preso dall'Oriente già ce l'avete tra le mani, non vedo l'ora di saperne qualcosa, quindi fatemi sapere, e se lo state aspettando anche voi e tanto quanto me. Poi andiamo invece con la vera ciccia di questo video ragazzi, nel frattempo vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi e mettere mi piace al video, finché possa essere condiviso e possa girare il più possibile. Grazie a tutti raga, e sto parlando appunto per il nuovo annuncio di Wolverine. Wolverine tratto da Deadpool Wolverine, o Deadpool 3, chiamato in gergo diciamo, il film che uscirà tra praticamente un mese, e che sembra essere uno dei film più colossali degli ultimi anni dell'universo Marvel, se non quello più aspettato, soprattutto dai fan. Questo Wolverine che, come vedete, uscirà in due versioni, quella standard, chiamata su Sideshow Collector, e la Deluxe. Anche qui Hot Toys ci ha messo un po' del suo, ne parleremo fra poco. Il prezzo della standard su Sideshow, quindi parliamo per l'Oriente, 270 euro, della Deluxe è 327. Dopo andremo a vedere invece sul Colosso dei Nerd quali saranno i prezzi italiani. Per quanto riguarda questo Wolverine, è davvero una bestia. È bellissimo, ragazzi. Io non so cosa ne pensate voi, ma appena ho visto l'annuncio, sono impazzito. Ovviamente la testa di Jackman è presente soltanto nella Deluxe, quindi qui ci sarà un bel problema, cioè decidere se esporlo con la maschera, perché è fighissimo, e se non mi sbaglio è la prima volta che si vede un Wolverine nei film con la maschera, quindi è davvero una cosa eccezionale secondo me, oppure appunto esporlo con questo head sculpt di Jackman, di Hugh Jackman, che è una roba incredibile, raga. Versione Deluxe, che ha oltre appunto all'head sculpt, ha anche la versione con le maniche e alcuni pezzi del costume, dell'armatura, danneggiati. Quindi c'è un bel po' di cicce in più, quindi raga, so che già me lo chiederete, ma secondo me andate per la Deluxe senza nemmeno pensarci. La basetta, molto figa, classica basetta esagonale Marvel, ma molto bella, con questo motivo di Deadpool e Wolverine. e adesso scopriamo un po' di foto, guardate che bello che è, raga, questo head sculpt. Cioè, io sono rimasto senza parole perché davvero è incredibile e lui è identico e uguale. Anche i capelli, seppur in plastica, sono riprodotti alla perfezione. Niente da dire. La barba, lo sguardo, le rughe, la pelle, tutto quanto è Jackman. non c'è veramente niente da dire. È un capolavoro. Infatti appunto, sarà proprio il problema una volta presa la Deluxe, come lo esponiamo? Con la maschera o senza maschera? Non lo so. Qui ovviamente per la Deluxe ci tiene Hot Toys a flexarlo, giustamente, e guardate invece anche questa versione con la maschera. Che cosa gli vogliamo dire? Anche qui, capolavoro. Nulla da dire, assolutamente. Quindi, raga, adesso andiamo a leggere qualche piccola specifica. Intanto, volevo farvi vedere anche qui, ecco, la, ovviamente, la funzione degli occhi che possono essere rotati a piacimento. E invece, per la, per l'head sculpt con la maschera abbiamo anche la parte sottostante, come abbiamo visto, per esempio, in Batman e in altre doll, che può essere, ovviamente, intercambiata con quello che credo sia un magnete. Bellissimo. Quindi abbiamo, vedete, tre parti sottostanti della faccia, non so come chiamarle, ragazzi, differenti per tutti i tipi di pose e tutto ciò che vogliamo. Questo è un pezzo, raga, da avere, assolutamente. Cioè, qui non esiste non prenderlo. Allora, andiamo a leggere qualche dettaglio. Abbiamo visto, quindi, ok, l'head sculpt, abbiamo tre parti sottostanti della faccia, raga, lower faces, intercambiabili, abbiamo gli occhi che possono essere ruotati, tutto quello che vi ho detto fino adesso. Volevo leggere qualcosa riguardo le mani, ok, abbiamo sei paia di mani intercambiabili, un paio di pugni, un paio di mani rilassate e un paio di mani aperte, ovviamente, con, poi ci sono anche gli artigli che possono, credo, essere montati separatamente alle mani. Infatti, allora, poi abbiamo anche, appunto, delle parti che sono battle damage, diciamo, per quanto riguarda l'armatura, ma solo per quanto riguarda la versione deluxe. Ora ragazzi, andiamo ovviamente a vedere questo ed altre cose su Il Colosso dei Nerd perché, appunto, è già disponibile il preordine sul Colosso per la versione standard, quindi la versione che abbiamo detto solo con la maschera senza l'head sculpt di Jackman, 299 sul Colosso dei Nerd, mentre 349 per quanto riguarda la versione deluxe. Quindi, raga, già sapete. Altre interessanti novità sul Colosso, avevamo già visto Hermione e c'è tanta altra roba interessante, ragazzi, che vi invito a vedere andando a consultare il sito del Colosso dei Nerd. Detto questo, raga, qui finisce il video. Spero di esservi stato d'aiuto dicendovi i dettagli di queste doll, di questo nuovo annuncio bomba di Wolverine e della release di Anakin. Hot Toys sta spingendo tanto, l'ho detto anche in un video precedente, in una live, mi sta piacendo l'atteggiamento che sta avendo in questo periodo, cioè portare contenuti, portare release, ha fatto un planning di release che sta rispettando e sta andando veloce come un treno e sta portando anche tante cose nuove e interessanti. Ovviamente io mi aspetto la settimana prossima, visto che adesso è uscito il pre-order di Wolverine per la prossima mi aspetto quello di Deadpool e ovviamente saremo qui ad aspettarlo e a parlarne sempre insieme, sia nelle news della settimana che in tutti gli appuntamenti del canale. Quindi raga, non mi resta altro che salutarvi, ci vediamo lunedì, quindi domani sera in live, mi raccomando venite raga perché mi dovete far spendere i soldi, quindi quale migliore occasione di questa? Quindi ci vediamo domani sera in live raga, non mancate e detto questo buona domenica ancora, buon fine settimana, alla prossima, ciao raga, a presto! !